a roma sta vince ha fatto due gol due gol fatta dal grande capitano a totti che non è finita la volta che ha fatto il gol ha detto manco lui dice cavolo non ci posso credo ha fatto un gol veramente eccezionale lui stesso allora ha preso quel telefonino si è messo là e si è fatto il selfie ha fatto così e ha scattato ma sta foto veramente andrà a ruba non a foto mia a foto di totti grande totti veramente da roma se ci fosse totti a roma che farebbe comunque la lazio sta giocato bene comunque due gol non è che per scherzare grandissima roma grandissima lazio